Salve, sono Angela della Beable ed oggi vedremo insieme come configurare e collegare i telefoni cordless Grandstream DP715. Si tratta dei primi telefoni cordless dell'azienda leader nel settore VoIP, ossia la Grandstream. Questi telefoni vengono introdotti all'interno di un'azienda per migliorare la mobilità all'interno di essa. All'interno della scatola troviamo una basetta, un cordless, un cavo di rete, un cavo di alimentazione e delle batterie. Quindi per prima cosa dobbiamo mettere in carica il telefono stesso e aspettare circa 12 ore. Noi ne abbiamo approfittato per caricarlo nella serata di ieri. I Grandstream DP715 sono costituiti da una base DECT, la quale viene riconosciuta dal collegamento con il cavo di rete, e gli handset o cordless. È possibile collegarne fino a 4, quindi 4 cordless compreso la base DECT ne costituiscono 5. Dopo aver collegato la base DECT all'alimentazione e alla rete, possiamo procedere all'identificazione dell'indirizzo IP. Quindi andiamo a digitare asterisco, asterisco, asterisco e selezioniamo l'opzione 02 nel caso in cui all'interno della nostra rete disponiamo di un server DHCP. Quindi l'indirizzo IP è 192.168.078. Dopo aver definito insieme l'indirizzo IP del telefono in impostazione dinamica, avendo quindi a disposizione un server DHCP, andiamo a definire insieme l'indirizzo IP del telefono come statico. Quindi decidiamo che l'indirizzo IP da impostare sia il 192.168.079. Posizioniamoci quindi nel menu principale digitando asterisco, asterisco, asterisco e andiamo a digitare l'opzione 01. Atualmente il telefono ha come impostazione quella dinamica. Dobbiamo andare a definire l'impostazione statica, quindi per modificare digitiamo 9. Digitiamo ancora 9 perché non è questa l'opzione da noi desiderata. static IP mode. Ecco, questa è quella corretta. Adesso digitiamo cancelletto per riposizionarci nel menu principale. Enter menu option. Digitiamo adesso l'opzione 02 e andiamo ad inserire l'indirizzo IP comprensivo di 12 caratteri. Quindi andiamo a vedere meglio insieme così capiamo meglio. 2, 1, 6, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 9. E digitiamo di nuovo cancelletto. Andiamo a redigitare lo 02 per verificare che l'indirizzo IP IP inserito sia corretto. L'indirizzo è corretto, ora andiamo a definire la subnet mask. Quindi riposizioniamoci di nuovo nel menu principale digitando cancelletto e digitiamo l'opzione 03. 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 0, 0, 0, 0. E digitiamo di nuovo cancelletto. Andiamo a digitare di nuovo l'opzione 03 per verificare che la subnet mask sia corretta. 3, 5, 5, 5, 5, 2, 5, 5, 5, 5, 0, 0. Adesso abbiamo terminato la configurazione. Non ci resta che accedere tramite un qualsiasi browser all'indirizzo 192.168.0.79 per continuare la configurazione. Ho dimenticato di dirvi che dopo la definizione dell'indirizzo IP in statico dobbiamo riavviare il telefono come anche definito nel manuale. Quindi dobbiamo scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione. potremmo accedere all'interfaccia web dopo che il LED della rete non blinchi più ma sia fisso. Andiamo quindi ad accedere all'interfaccia web all'indirizzo. 192.168.0.79 e procediamo con la configurazione. Accediamo da un qualsiasi browser web all'indirizzo 192.168.0.79 ed inseriamo la password di default ossia admin. posizioniamoci nella scheda Basic Settings e andiamo a definire le impostazioni, quindi quelle dell'indirizzo IP. assicuriamoci che l'indirizzo IP visualizzato coincida con quello precedentemente inserito così come la subnet mask e andiamo a inserire il router di default che coincide con il nostro gateway. andiamo successivamente a definire il primo server DNS il quale coincide con l'indirizzo IP del centralino, quindi 192.168.0.151. infine definiamo la time zone, quindi quella di Roma e andiamo a salvare le impostazioni, ossia clicchiamo su Update, quindi Reboot e attendiamo il riavvio del telefono. Dopo esserci rilogati procediamo alla configurazione delle impostazioni avanzate, quindi Advanced Settings e andiamo per esempio a modificare la password del pannello admin, ossia quello al quale adesso stiamo accedendo e definiamo altre ulteriori impostazioni, ad esempio quella dell'NTP server. possiamo modificarlo inserendo quello italiano, quindi ntp1.inrim.it andiamo a salvare le impostazioni, per tutti gli utenti esperti è possibile effettuare altre modifiche aggiuntive, noi in questo video ci limitiamo a queste in quanto stiamo definendo una configurazione di base. Procediamo con la configurazione del profile 1, riloghiamoci all'interno della pagina web e posizioniamoci in profile 1, assicuriamoci che questo sia attivo come di default e andiamo ad inserire il primary SIP server, ossia l'indirizzo IP del centralino. Eventualmente possiamo definire un file over SIP server, nel caso in cui disponessimo di un centralino secondario di file over SIP server e definiamo l'outbound proxy che coincide sempre con l'indirizzo IP del centralino. Possiamo anche qui divertirci e impostare altre configurazioni aggiuntive, ad esempio il DTMF, utile nel caso in cui disponessimo nel nostro centralino dei IVR attivi, quindi è utile per il riconoscimento dei differenti toni. Infine andiamo a salvare le impostazioni cliccando su Update e quindi Reboot. Le ultime due impostazioni da effettuarsi sono la disattivazione del profilo 2 e la definizione degli handset, quindi posizioniamoci in profile 2 e disattiviamo il profilo stesso, quindi scegliamo Update e Reboot. Riloghiamoci nuovamente all'interno della pagina web e scegliamo handset, quindi andiamo a definire i due interni. Nell'handset 1 assicuriamoci prima che sia attivo e inseriamo il SIP user ID, quindi nel nostro caso lo definiamo come interno 250. Allo stesso modo inseriamo l'authenticated ID, quindi 250, la password e il nome che coincide sempre con 250 nel nostro caso. Infine assicuriamoci che appartenga al profilo 1. La stessa cosa ripetiamo per l'handset 2 e questa volta invece configureremo come SIP user ID 251. 250 e 251 sono due interni che abbiamo precedentemente creato all'interno del centralino Asterisk. Infine andiamo a salvare le impostazioni e procediamo con la registrazione dei due handset dai telefoni stessi. Dopo aver terminato la configurazione dall'interfaccia web procediamo alla registrazione delle due basi. Quindi scegliamo menu, handset e quindi registration, register, base 1 e inseriamo il pin di default ossia 4 volte 0. Salviamo, la base verrà riavviata e quindi registrarà registrata. Dopo aver configurato il DP715 procediamo alla configurazione del DP710. Quindi accediamo al menu e scegliamo handset. Quindi registrata, registrata, base 2. Andiamo adesso ad inserire il pin, ossia il pin di default 4 volte 0. Salviamo e attendiamo il riavvio. Dopo aver effettuato la registrazione delle basette riposizioniamoci nell'interfaccia web e verifichiamo che siano entrambe registrate. Quindi gli handset siano entrambi registrati e siano anche registrate all'interno del centralino. Procediamo adesso ad effettuare alcuni test dopo che i due telefoni si sono correttamente registrati. Abbiamo identificato la base DP715 come interno 250 del nostro centralino. Mentre il DP710 l'abbiamo identificato come interno 251. Quindi adesso facciamo un test di chiamata interna. Digitiamo quindi l'interno 251 da chiamare. Digitiamo il tasto verde per attivare la chiamata. Quindi allo stesso modo effettuiamo una chiamata dall'interno 251 verso l'interno 250. Le suonerie sono differenti poiché le abbiamo impostate precedentemente in maniera diversa, però è possibile impostarle a vostro piacimento. Effettuiamo adesso un ulteriore test, ossia dall'interno 250 effettuiamo una chiamata all'esterno, ad esempio a un cellulare, e successivamente trasferiamo la chiamata all'interno 251. Digitiamo 9, ossia la rotta d'uscita del nostro centralino e quindi il numero di cellulare. Quindi la chiamata è arrivata correttamente con il nostro numero di ufficio. Una volta aperta la chiamata supponiamo di dover inoltrare la chiamata all'interno 251, quindi R251. Attendiamo 4 secondi oppure digitiamo il tasto cancelletto. La chiamata è stata correttamente reindirizzata. Adesso invece supponiamo di ricevere una chiamata e trasferire questa dall'interno 251 all'interno 251. Quindi da un telefono chiamiamo il nostro ufficio, i due interni sono stati inseriti all'interno del ringgruppo, quindi squileranno insieme agli altri interni del nostro ufficio. Quindi rispondiamo dall'interno 251 e trasferiamo la chiamata all'interno 250, quindi R250. Aspettiamo 4 secondi oppure digitiamo il tasto cancelletto. La chiamata è stata trasferita. Adesso chiudiamo. Ricordiamo che il trasferimento di chiamata può essere effettuato o digitando il tasto R e il numero dell'interno, oppure R asterisco 87 e il numero dell'interno. Ci sono due differenti modalità, quest'ultima viene definita ed è scritta all'interno del manuale. Continuate a seguirci sul nostro canale YouTube. Nel prossimo video vedremo insieme come configurare un Grandstream GXP2124.